L'associazione culturale e politica Battipaia Nostra grida all'alto tradimento in merito alle vicende governative di questi giorni che vedono al centro delle polemiche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e convoca un presidio contro l'ennesimo colpo di Stato, si legge dalla locandina che circola in queste ore su Facebook, dei poteri finanziari. A vallando dunque la tesi del Movimento Pentastellato, il cui leader ha accusato il Presidente di impeachment per il diniego nei confronti del Professor Paolo Savona, proposto come Ministro dell'Economia dall'Asse e Lega 5 Stelle. Il comizio di Battipaia Nostra è previsto venerdì 1 giugno alle ore 19 in Via Italia a Battipaia.